Sardegna nel pallino e quest'oggi come ospite in esterni abbiamo un amico ma anche il direttore sportivo del Sacro Cuore una società molto importante, una società che sicuramente su Sassari e sulla provincia di Sassari sta primeggiando Maurizio Zai, una società la tua che in questi ultimi anni ha migliorato tantissimo Buonasera a tutti, siamo partiti da un numero di tesserati all'incirca di 40 adesso siamo quasi 60 tesserati per il secondo anno di fila faremo la squadra femminile quest'anno ci sono ambizioni perché la squadra si è riforzata con l'arrivo di Sarara campionessa italiana di categoria B, abbiamo messo numerose gare in calendario e nient'altro diciamo ci stiamo migliorando anno dopo anno siamo una società molto coesa nel senso diciamo una famiglia Senti non ci sono solamente le donne anche se onestamente quest'anno avete superato voi stessi specialmente dal punto di vista di ingaggi perché avendo portato Sarara da voi insomma è un bel colpo ma non è soltamente questo, voi fate anche un campionato probabilmente di prima categoria abbastanza interessante e non so se voi fate quello di secondo o di terza Noi quest'anno abbiamo tutte e quattro le specialità abbiamo la prima, la seconda, la terza categoria e la femminile come prima diciamo che la squadra c'è, sono rientrati i due marini Fabrizio Riccardo dal Concordia, c'è Antonio Marini, io, Carletto Secchi, Simone Repalmas e Alessandro Fodai Come squadra diciamo siamo abbastanza competitivi a livello di provincia di Sassari poi ovviamente fuori si sa che ci sono squadre dello stesso livello anche più forti però ce la giocheremo Senti il problema delle gare, voi avete come Fiora Rocchiello la Panumulas quest'anno avete fatto una bella gara ma nelle vostre intenzioni è quella di portare la gara nazionale Sì, allora la Panumulas è nata nazionale e noi per i nostri tre anni cercheremo di farla, di riportarla nazionale poi con il nostro consiglio abbiamo restaurato un'altra gara femminile che quest'anno ci sarà la seconda edizione il 5 marzo che è con il nastro Rosa, l'anno scorso è stata un successo infatti è venuto anche il rappresentante della federazione a vederla diciamo Senti il problema delle gare, c'è qualche cosa che probabilmente non è andata molto a genio a molti soci qualche decisione della federazione, tu cosa ci puoi dire nel merito? Diciamo che adesso la federazione sta tornando sui suoi passi già dal primo marzo le gare tornano ai 12, ci sarà nuovamente il campo comune diciamo che questo cambio di regolamenti ogni anno porta anche la confusione nei tesserati perché un conto io sono giovane ma c'è gente che gioca da anni che non può stare appresa ogni anno un regolamento nuovo quindi la federazione dovrebbe trovare un unico regolamento e magari fare leggere modifiche non radicali Quindi tu sei favorevole alle nuovità? Sì, sono favorevole Queste nuove? Queste nuove sì perché alla fine diciamo che è giusto che questo sport si rinnovi perché i tesserati sono pochi, giovani ce ne sono pochissimi in Sardegna però bisogna farlo anche lentamente questo rinnovo, non tutto di colpo Noi Maurizio abbiamo quasi terminato un'ultima battuta che è quella che generalmente facciamo agli ospiti se c'è qualche cosa che puoi dire ai tuoi soci e che vuoi dire a tutti cosa ha ospiti per il futuro? Io auguro a tutti una buona annata ovviamente viva lo sport, viva le bocce in armonia fra tutti siamo pochi a Sassari quindi rimaniamo amici tutti e in bocca al lupo Ho attraversato la storia di questo paese ho insegnato ai giovani a divertirsi con i loro padri ma non sono solo un gioco da 120 anni sono una disciplina che accende la passione negli occhi di chi mi frequenta anche quando la fronte racconta una vita di fatica e di lotta incessante Raffa volo, petanca, beach e boccia paralimpica sono la declinazione di un solo valore che accoglie sportivi e agonisti nella conquista del boccino in una competizione dal sapore antico di merito e amicizia non conosco moda ma tesso l'intero stivale avvicinando metropoli e municipi ho solo una certezza finché l'uomo vorrà gioire insieme le mie bocce continueranno a rotolare colpirsi, allontanarsi come i pianeti di questo universo così da 10.000 anni fino alla fine del mondo abbiamo iniziato la trasmissione in esterni e adesso ci siamo portati in studio per continuarla abbiamo iniziato con il direttore sportivo della società Sacro Cuore Maurizio Usai e adesso continuiamo a parlare di quanto è successo nell'ultima settimana iniziamo con il campionato di Serie A femminile che ha preso il via da qualche giorno da una settimana praticamente e sono avute sei squadre che hanno partecipato a questo campionato di Serie A femminile e due di queste sei squadre sono sarde quindi iniziamo subito a parlare della bocciofila Santirminio che ha incontrato il possaccio e ha pareggiato la partita 5-5 si è giocato anche in Sardegna con San Giuseppe di Pirri che ha battuto la Sommus di Oristano per 7-3 non ci pensi che la partita è stata facile per i Pirri perché la Sommus di Oristano ha posto un'adeguata resistenza anche se la partita poi si è conclusa sulle 7-3 ma i 7 sono stati molto combattuti a concludere il team Osteria Grande che ha battuto il Sandro De Santis per 8-2 una vittoria nettissima la classifica dopo la prima giornata vede in testa appunto la Osteria Grande con 3 punti insieme al San Giuseppe di Pirri sempre con 3 punti poi il possaccio e il Santirminio con 1 punto a terminare Sandro De Santis e il Sommus di Oristano con 0 punti la prossima partita che non sorgirà giocherà questo sabato ma si giocherà il giorno 18 Sandro De Santis incontrerà la bocciofile Emilio San Giuseppe e Pirri incontrerà il possaccio una partita molto difficile e l'Osteria Grande ospiterà la Sommus di Oristano ma questa partita verrà giocata il 22 di aprile per accordi fra le società e proseguiamo nella nostra trasmissione proseguiamo a parlare di Serie A2 un campionato difficile al quale partecipa la formazione del Circolo Sassari che è una formazione che ha iniziato questo campionato con una sconfitta e due pareggi i due pareggi sono stati ottenuti entrambi in casa vediamo subito i risultati di questo campionato dopo la terza giornata il Cibi Sassari quindi ha pareggiato con SB Ingenering di Latina 4 a 4 la partita è stata combattuta la formazione di Sassari ha avuto la possibilità di vincere questa partita aveva tutte le carte in regola per vincere qualche cosa non è andata bene e la partita è stata pareggiata comunque la formazione guidata da Cavino Sodini sicuramente ha fatto una bella figura il pubblico è stato molto numeroso e ha partecipato molto alla gara ma la gara è andata purtroppo le gare di bocce possono terminare anche con risultati non aspettati uno di cui è stato questo perché ripeto la bocciofila Sassari meritava di vincere la partita vi ripeto ancora il risultato 4 a 4 la Catanzalese invece ha battuto il Cittadinola per 5 a 3 mentre il Fusco Sporto ha battuto il Capitino Isola di Liri per 6 a 2 altre due partite Sant'Angelo Eocri di Acri con Enrico Millo partita vinta per 5 a 3 e Santa Chiara Le Delizie che ha battuto il Maison Galeotta per 3 a 5 quindi ha vinto il Maison Galeotta scusate un attimino questo lapsus e andiamo alla classifica la classifica vede il Sant'Angelo e la Cittadinola con 9 punti insieme alla Catanzarese con 9 punti appunto l'arredamento Fusco Sport la Santa Chiara Delizie e il Maison Galeotta con 7 punti a seguire In Genering Latina e Cittadinola con 4 punti Sassari, Capitino, Isola di Liri e Enrico Millo con 3 punti questo è tutto per quanto riguarda questa giornata di campionato vediamo subito anche le prossime partite che si giocheranno il giorno 18 la Enrico Millo incontrerà le Ingenering di Latina la Fusco Sport incontrerà la Catanzarese la Maison Galeotta ospiterà Sant'Angelo di Città di Acri la Capitino, Isola di Liri, il Cittadinola e Santa Chiara e Delizie, il Cibi Sassari ecco questa è una partita molto importante per il Città di Sassari perché da questa partita si attendono notizie buone una vittoria non starebbe male farebbe risalire tantissimo la formazione di Capitino e Soliri ma ripeto il campionato è ancora lungo e tutto potrà accadere e andiamo a concludere la trasmissione parlando del campionato di Serie A1 che non vede formazioni sarde in competizione ma vede tantissimi giocatori sardi che vi partecipano iniziamo subito a parlare del Giorgione Trevillese che ha battuto il Mosciano per 5 a 3 la Cacciamanza campione d'Italia che ha battuto il Flaminio per 7 a 1 il Possaccio, il Bovino e Marino per 6 a 2 il Vigasio che ha battuto la botticchia accessori di Faravolo per 6 a 2 e il Time 88 dove gioca Pierpaolo Corsi ha battuto il Metal Marche per 5 a 3 la classifica in questo momento Giorgione Trevillese 10 punti insieme al punto Vigasio Possaccio e Caccialanza 9 punti Time 88 e il Mosciano con 6 punti la Faravolo Botticchi 4 punti il Flaminio con 1 punto e Metal Marche e Bovino Marino con 0 punti la prossima giornata si giocherà il 18 vedrà il Flaminio ospitare il Giorgione Trevillese il Faravolo Botticchi ospitare il Bovino Marino il Mosciano ospitare il Caffer Metal Marche il punto Vigasio ospitare il Possaccio e il Time 88 ospitare il Caccialanza campione d'Italia Time 88 vi dicevo che con questa squadra gioca Pierpaolo Corsi di Sassari incontrerà un altro Sard che sarà in formazione non si sa se potrà giocare o meno ed è Robertino Moi questo è tutto per quanto riguarda anche il campionato di A1 e noi abbiamo concluso la nostra trasmissione naturalmente ringraziamo Maurizio Usai direttore sportivo del Sacro Cuore per la sua disponibilità e vi ringraziamo a tutti per l'ascolto e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo sempre alle ore 20 e 15 grazie per l'ascolto e buonasera a tutti grazie per l'ascolto